E' venuto da solo Olindo, senza rosa, all'udienza della Corte d'Assise di Como. In aula, come indicato dalla Cassazione, il contraddittorio tra accuse e difesa per decidere se analizzare oppure no reperti che, secondo i legali dei coniugi condannati all'ergastolo per la strage di erba, non sarebbero stati mai esaminati. Campioni biologici che sarebbero stati trovati sul luogo del massacro, in cui furono uccisi Raffaella Castagna, il figlioletto di due anni, la madre della donna e una vicina, un vecchio cellulare rinvenuto nella casa semidistrutta dal fuoco e le registrazioni ambientali effettuate dagli investigatori subito dopo il delitto e custodite nel server della procura. L'udienza si è svolta a porte chiuse, una scelta contestata dagli avvocati di Rosa e Olindo, poi i giudici si sono ritirati in Camera di Consiglio per decidere sulle richieste dei legali. Ma gli elementi di cui si è discusso oggi in aula durante il contraddittorio non sono i soli che porteranno gli avvocati di Rosa e Olindo a chiedere la revisione del processo per la strage di erba? Noi abbiamo anche altri elementi di prova che stiamo acquisendo ed abbiamo acquisito e anche su quelli punteremo al fine di chiedere una revisione. La difesa è infatti determinata a seguire questa strada per tentare di dimostrare l'innocenza di Rosa e Olindo ritenuti in tutti e tre i gradi di giudizio colpevoli di avere compiuto i quattro omicidi.